Buongiorno ragazze, allora vi accolgo nel mio splendore per fare un get ready with me perché intanto mi state chiedendo, mi chiedete spesso quando vedete gli outfit della settimana ma che ombretto usi, ma che correttore stai usando e così via per cui ho deciso in questa domenica di pioggia torinese di mostrarvi nella mia estrema bellezza oltretutto quando faccio la doccia al mattino, non so perché ma la mia pelle rimane particolarmente rossa per cui sono anche più rossa del solito, va bene oltretutto ho questa pettinatura molto anni 80, non perché mi sia impazzita ma perché sto sperimentando un nuovo metodo di asciugatura dei capelli per farli mossi più che altro per velocizzare la piega mossa per cui se poi regge ve la illustrerò e ovviamente alla fine di questo get ready with me vedrete anche il risultato con i capelli acconciati però purtroppo i capelli devono stare un po' in posa e fisicamente non ho il tempo per aspettare di fare la piega ai capelli e poi truccarmi perché poi devo andare fuori a pranzo quindi iniziamo subito, ho già messo le varie creme io al mattino, ormai da un po' utilizzo solamente un siero e un contorno occhi utilizzando questo qua della Lavera che mi hanno regalato al Cosmoprof quest'anno che è appunto un siero anti-pollution, anti-inquinamento, idratazione intensa e sento che al mattino mi è sufficiente come base trucco e poi vado a mettere come contorno occhi questo qua della Farm to Fresh anche questo ho acquistato al Cosmoprof questo l'ho comprato, non me l'hanno regalato che è un contorno occhi, dovrebbe essere al melograno in realtà io sento un forte odore di miele che devo dire un po' mi disturba però fortunatamente svanisce in fretta e in sé il correttore mi piace comunque bando alle ciance, voglio smettere di essere così impresentabile per cui iniziamo subito a truccarci normalmente da un po' di mesi a questa parte, più o meno da quando l'ho acquistato utilizzo prima di mettere fondotinta e correttore un primer che vado a utilizzare solamente nella zona del contorno occhi per appunto eliminare un po' le discromie e dove ho dei rossori, quindi ad esempio qua che ho dei segni di vecchi brufoli e un brufolo qua vado a utilizzare questo anti-rossori primer Lemon Marine della W7 di questo io ve ne ho parlato anche in un video preferito mi sto trovando bene perché va appunto un po' a correggere i rossori li va un po' ad annullare diciamo e quindi mi consente poi di riuscire a non schiaffarmi chi e chi di correttore dove appunto dei rossori e anche se al momento mi vedete forse ancora più gialla di prima questo passaggio per me è fondamentale ultimamente ho ripreso in mano l'utilizzo del fondotinta sono andata avanti praticamente fino ai primi di ottobre a utilizzare solamente il correttore però adesso ormai la mia pelle cadaverica è riemersa per cui oltre al correttore vado a utilizzare anche il fondotinta quindi metto prima il fondotinta e poi il correttore dove lo necessito al momento sto ultimando questo fondotinta che mi era stato omaggiato sempre al Cosmoprof che è della marca Moira però non so se sì io vi lascio comunque tutti i link dei prodotti dove li trovo insomma nel box info e ho sentito sulla mia Beauty Blender questa volta sono stata furba perché ho comprato la Beauty Blender non rosa ma già di questo beige trississimo calcolate che l'ho appena lavata quindi è proprio così il colore però mi fa sembrare la Beauty Blender meno lercia del solito quindi vado a mettere proprio un po' di fondotinta sulla Beauty Blender e vado a tamponare il fondotinta qua e là questo è praticamente il trucco che faccio tutte le mattine anche per andare in ufficio ovviamente per andare in ufficio il trucco è più veloce perché non so parlare non mi sto spiegando tutti i prodotti e diciamo al mattino io ogni trucco in 7-8 minuti devo dire che ultimamente ho di nuovo un po' di brufoletti nella zona qua del mento non so per quale motivo forse stress sono un po' stressata in questo periodo e quindi insomma come vedete qua ho alcuni segni di vecchi brufoli e alcuni brufoli insomma appunto ne ho due uno che sta arrivando secondo me e uno che invece è lì lì sulla via della guarigione e quindi insomma cerco di coprirli come posso ma tanto se il brufolo c'è 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 inizio che vi mettete 80 kg di correttore perché più vi truccate più comunque si vedranno strati e strati di trucco quindi una volta che io ho tolto quel rossore insomma ho cercato un po' di salvare la situazione poi lascio così il mio correttore del momento ma in realtà ormai è il mio correttore da mesi lo sto quasi ultimando infatti nella mia wishlist natalizia è il Multi Use Sculpting Concealer Balm This Way della Too Faced è un correttore che mi è piaciuto tantissimo per me un correttore deve essere correttore quindi non mi piacciono quei correttori liquidi che lo metti ed è praticamente la situazione come prima io voglio che un correttore veramente sia pialli tutto cioè sia veramente super full coverage e questo lo è per cui se siete alla ricerca di un correttore super full coverage lui è quello che state cercando anche perché io lo piazzo lì e veramente rimane lì tutto il giorno lo vorrei a settare con un po' di cipia però rimane lì tutto il giorno e io mi ci trovo benissimo e vi ripeto se siete in situazioni di emergenza tipo dovete fare dei viaggi io mi porto solo lui sia come fondotinta che correttore anche perché è praticamente grande quanto un fondotinta e all'occorrenza vi può fare benissimo anche la fondotinta io lui lo vado a mettere qua vicino al condotto lacrimare e dove ho appunto un po' di rossori di brufoletti al momento io sto usando la colorazione vanilla in realtà fa al mio caso anche il colore almond che però l'ultima volta che sono andata da Sephora non l'ho più trovato quindi non so se sia andato fuori produzione o semplicemente in quel momento non fosse disponibile e ho trovato anche come altra valida alternativa il colore pearl perla infatti nella mia wishlist natalizia ho inserito la tonalità pearl proprio perché voglio vedere se magari appunto mi ci trovo bene in questo periodo sto cercando veramente di utilizzare un po' gli stessi prodotti un po' perché obiettivamente io non è che mi sia mai fatta dei trucchi pazzeschi anche perché appunto facendo vita da ufficio non è che mi vado a fare un trucco fucsia un trucco verde insomma cerco di fare un trucco neutro che vada un po' bene con tutto mi spiace che con questa luce mi vedete molto molto bianca però se la spengo non vedrete un tubo non vedreste un tubo quindi la devo lasciare così per cui sto cercando veramente di utilizzare tutti i giorni gli stessi prodotti in modo da terminarli perché io odio avere tipo due cipre aperte insieme no finisco una cipria e poi ne ho un'altra come cipre sto utilizzando ormai da secoli forse non finirà mai questa natural skin powder di lastra in particolare il mio è il color 36 e va bene nel senso che non mi fa lucidare particolarmente è abbastanza trasparente ho comunque il colore della mia pelle poi le sopracciglia anche qua sto terminando questa Estée Lauder The Brow Multitasker 3 in 1 nella colorazione 03 Brunette questo mi era stato omaggiato da Octoly diverso tempo fa ne ho ancora un bel po' devo dire che mi ci sto trovando bene io normalmente utilizzavo sempre quello della la matita per le sopracciglia della Puro Bio però appunto ultimamente visto che avevo da parte varie varie matite sopracciglia sempre accumulate tra Cosmo prof e varie collaborazioni ho deciso che non acquisterò quella matita finché non avrò ultimato terminato tutte le matite per le sopracciglia che ho lì da parte nel mio cassettino e ne ho veramente veramente tante ora mettere la terra questa come al solito anche qui sto finendo questa in realtà di terra non ne ho molte da parte quindi credo che ultimata questa dovrò comprare un'altra questo è il Back to Bronze dell'Oreal questa è la tonalità 02 Sun Kiss e anche per quanto riguarda le terre io non ho grandi pretese l'importante è che non siano ovviamente troppo scure e che non abbiano quei maledetti pigmenti luccicanti che odio cioè per me la terra deve essere matte completamente matte e io sbaglio lo so ve lo dico sempre in ogni Get Ready With Me ma io mi metto la cipria in tutto la cipria la terra in tutto il viso lo so che non si fa lo so non fatelo voi però io faccio così da sempre perché altrimenti mi vedo troppo pallida in alcuni punti del viso non ne vado a mettere una quantità assurda per cui non sembro che sia stata alle Bahamas sulla faccia e sul resto del corpo sia rimasto rino per il resto della mia vita però ecco non mi piace l'effetto baciato dal sole in inverno per cui lo so che sbaglio ultimamente e questa volta insomma questa cosa me la chiedete spessissimo mi trucco gli occhi in questo modo prendo il mio illuminante della NYX questo è favoloso io ve lo consiglio veramente si chiama Born to Glow della NYX ed è il numero 03 Break the Rhythm io lo adoro mi piace tantissimo ci sono varie tonalità ma per me questo è quello più bello in assoluto proprio bello 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 e io non solo lo uso come illuminante e per fortuna è bello grande perché così mi durerà ancora per tanto e non lo dovrò comprare anche se fosse intorno a 10 euro vado a prendere il pennello numero 224 di MAC che in realtà forse bisognerebbe utilizzare per il correttore ma io lo utilizzo per l'highlighter e lo vado a mettere come se fosse un ombretto io normalmente questo è veramente il mio trucco quotidiano lo vado a mettere anche nella zona qua dell'argata sul faciliare perché va a dare cioè è un colore di ombretto che io amerei se fosse un ombretto non è un ombretto ma è un highlighter ed è praticamente uguale per cui io lo adoro e lo uso appunto come ombretto spesso questo è il mio trucco nel senso che faccio così mi metto il mascara e sono a posto oppure quando ho un po' più di tempo mi metto questo e poi sopra mi metto un po' di eyeliner ma normalmente invece il trucco che faccio questo non lo metto via perché mi servirà dopo normalmente quello che faccio è quello di andare a schiaffarci sopra un po' di questo ombretto ice couture liquid eyeshadow dell'astro numero 05 di cui vi ho già parlato in lungo e in largo nei miei video preferiti ma in tantissime spesso mi chiedete su instagram che ombretto hai ecco lui che ombretto appunto liquido mi piace tantissimo questo anche mi è stato omaggiato al Cosmoprof ma quando mi finirà lo ricomprerò sicuramente anche perché poi l'astro costa veramente poco e cosa vado a fare ne vado a mettere un pochino e poi lo vado a stendere a tamponare in realtà col dito e da un effetto veramente molto molto bello guardate rispetto all'altro occhio non lo so mi piace proprio tanto 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 e più che altro vi da questo effetto come se voi aveste messo mille ombretti avesse fatto mille sfumature ma in realtà è una cosa velocissima proprio veloce 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 esistono sicuramente altre colorazioni di questo ombretto ma a me piace proprio questa nel senso che secondo me se fosse più scura sarebbe too much se fosse più chiara forse non sarebbe bene con i miei colori di sicuro ecco non potrei utilizzare tutti i giorni se fosse che ne so azzurro verde e invece questo colore è assolutamente perfetto dopodichè vado a mettere il mascara anche qua sto veramente mi sono resa conto di avere tipo 15 mascara reduci tra Cosmo prof e collaborazioni varie per cui ne sto usando via uno via l'altro al momento è il turno della Cookie Professional volume più length quindi volume e lunghezza mascara made in Italy della marca quindi cookiecosmetics.com e questo mascara qua lo sto utilizzando già da un po' non mi fa impazzire nel senso che secondo me allunga molto le ciglia non le volumizza mi fa un po' quell'effetto ragnatela appiccicosa che non mi fa impazzire però pazienza lo sto usando mi metto il mascara e torno ok ho messo il mascara io normalmente metto il mascara stasso perché sotto anni fa invece mettevo sotto la matita nera ma non mi piace più vorrei mettere il blush anche qua sto utilizzando da secoli lo stesso blush della marca Motives nella colorazione non c'è una colorazione non c'è comunque la marca è questa spero si veda tempo fa ma veramente tanto tempo fa mi avevano mandato insomma vari loro prodotti e questo blush è veramente veramente infinito ma mi piace un sacco la colorazione perché questo rosa scuro completamente matt e veramente non finisce mai cioè non finisce mai vabbè finiamo poi mettendo l'illuminante che è un'altra cosa che adoro mettere quindi vado a riprendere il mio illuminante delle noi ex e lo vado a mettere in questa parte qua sul bordo del naso e qua sotto e praticamente il trucco è terminato ovviamente mancano ancora le labbra e non posso che non usare lui il numero 15 di Maybelline Super Stay Matte Ink il mio preferito di sempre Forever and Ever voi mettete questo rossetto alle 8 del mattino tornate a casa alle 8 di sera dopo aver mangiato bevuto baciato e magari fatto altro e il rossetto è sempre lì quindi love 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 ok questo è il trucco ultimato appunto il mio look praticamente quotidiano vado finalmente a ultimare i miei capelli e così vi saluto eccomi qua direi che l'esperimento è riuscito quindi i capelli mossi sono venuti molto bene vi farò poi un update del tutorial capelli mossi per velocizzare ancora di più i passaggi questo punto è il look completo e noi ci vediamo con un prossimo video ciao mi raccomando seguitemi anche su instagram